Salve a tutti, qua da Fabio, oggi c'è un nuovo video sbarbata, volevo sponsorizzare un canale di youtube che si chiama La Cosa Casettola Tradizionale, una canna di persona, un cano di amico, un cano di cuore, lascio il link in descrizione Ora ce ne è mossa con la faccia Non è buono, l'ho fatto l'atto ieri, ieri ho saltato, oggi ho voglia proprio, faccio un giorno sì, un giorno no Mi dà fastidio anche così a me, non sopporto proprio Come prodotto, oggi niente per barba, abbiamo Florence, factory hub, ovviamente con suoft e shave, alcolico, così si fa una bella botta di vita Ho già messo il sapone qua dentro Troppo acqua, ecco qua Questo mi piace un casino Ovviamente con il tasso, top Per un sapone top, ci deve essere un pennello top Ci mancherebbe altro o no? Scaldiamo il pennello di tasso Della Janet, ovviamente il top Per di a Grazie. Scusate ma oggi proprio quando usate i saponi che costano un po' di più come questo o sapone un ufficio vanesino o il ponx, tutti quei saponi lì, o lo sterling, non c'è bisogno del tuo mamma. Non c'è bisogno del tuo mamma, non c'è bisogno del tuo mamma, non c'è bisogno del tuo mamma. Perché tanto lo ha poco, no, va bene così. Lo rimiamo Gillette King con le Gillette radio. Eh, queste le metti qua mi piacciono, non prendo la confezione, l'attento, perché li uso ogni tanto perché sono il top per me, quindi per cambiare ogni tanto uso anche queste. Però ci stanno come, mi piace, mi piace. sarà già come un uomo con le persone, poi con le persone ho comprato davvero un po' che si vede 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 un po' che si vede